Allora, il mondo in questo momento è dominato da nove grandi banche di investimento internazionale Lo dice Giulietto Chiesa? No! Lo dice il New York Times Sulla prima pagina gli è scappato? Si vede che è stato un incidente, gli è sfuggito Ogni tanto ci sono questi momenti in cui si apre una finestra all'improvviso perché non possono controllare tutto Ma anche in questo caso nessuno se ne accorge Perché dico nove banchieri? Voi non lo sapete E lo sapete perché non lo sapete? Non lo sapete perché neanche un giornale italiano ha pubblicato questa notizia È sfuggito il New York Times ma tutti i giornali italiani hanno tacciuto su questa notizia Nove banchieri, diceva il New York Times il 13 di dicembre del 2010 Si riuniscono in un posto segreto di Manhattan e decidono qual è il mercato dei derivati